Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti, grazie, dopo magari, tenete gli applausi per dopo, sulla fiducia, grazie, grazie, in realtà sì, un po' sulla fiducia vi ringraziamo perché già vedere una sala piena di amici ma anche di persone mai viste, forse è ancora più bello perché vuol dire che scoprono per la prima volta State of the Net, State of the Net ha ormai una certa età perché la prima edizione è del 2008, organizzare, raccontavo prima a qualcuno organizzare una conferenza su internet nel 2008 era leggermente diverso da organizzarla nel 2018, per esempio bisognava spiegare alle persone che la conferenza non era su internet nel senso, nel luogo internet ma era sull'argomento internet, ora il tema è un po' più conosciuto, capiamo tutti quanto sia importante comprendere gli effetti di internet sulla società e questo è l'obiettivo che ha la nostra associazione da sempre e quindi siamo molto felici di essere qui. Ci doveva venire a salutare il presidente della regione Massimiliano Fedriga che però ha avuto una giornata stravolta da un lutto importante a cui anche noi vogliamo dedicare un minuto, gli ospiti da fuori forse non lo conoscevano ma nella notte è morto il presidente del consiglio regionale, è già senatore, è già sindaco di Gorizia Ettore Romoli a cui un uomo dell'istituzione a cui dedichiamo un applauso e un ricordo. Questa è una conferenza per chi arriva da lontano lo sa perché si è fatto appena 4 ore di treno o di più, questa è una conferenza strana perché non è la solita conferenza che si può fare a Milano o a Roma, per fare qua forse qualcuno di voi fa fatica proprio perché vogliamo che siete poi rinchiusi in una stanza a ragionare per due giorni e poi non scappiate. Questo è il senso di fare una conferenza di questo genere a Trieste in un angolo ma anche in realtà nel cuore d'Europa e sul mare, l'avrete visto, siamo su un molo, un posto adatto per parlare di reti e connessioni. Fare state of the net non è semplice ma è una grande sfida e ogni anno ci obbliga a guardare la società e a provare a capire che cosa sta succedendo per descriverlo. Prima di tutto è un grande stimolo e quindi siamo in realtà noi a ringraziare voi perché venite qua e tutti i partner che credono nel progetto a partire dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, da Insiel che è il coorganizzatore di questa edizione, il nostro main partner a cui diamo il benvenuto perché è il primo anno che lavoriamo assieme e speriamo di farlo in futuro che è IBM e tutti gli altri partner che rendono possibile state of the net. Da sempre ci concentriamo su che cosa significa internet per la società e ogni anno scegliamo assieme al nostro comitato promotore di cui fanno parte alcune delle personalità più interessanti che studiano la rete in Italia e in Europa, proviamo a individuare una parola chiave che descriva l'anno, che descriva quest'annata. Quest'anno la parola chiave è conseguenze. Perché Paolo? Perché avevamo già usato complessità nel 2013, quindi non potevamo... e perché quando abbiamo incominciato a pensare alla conferenza era proprio il periodo di Cambridge Analytica e degli scandali e incomincio a pensare di come un'azienda crea un sistema per personalizzare la pubblicità ai membri di un social network, è sempre una buona idea perché così vedi pubblicità che ti interessa e dopo un po' probabilmente un governo di un paese ostile usa questo strumento per manipolare le elezioni. Chi si sarebbe immaginato queste conseguenze? E poi ti rendi conto che la complessità della gestione degli affari, del business è sempre più grande ed è sempre più difficile capire l'impatto delle scelte che piccole aziende, grandi aziende o anche l'amministrazione pubblica fa. Quali sono le conseguenze di quello che facciamo? Quindi abbiamo usato questa parola per mettere assieme un programma che oggi vedrà, che oggi si svolge per la gran parte in italiano e vedrà alcuni dei più importanti rappresentanti di industria pubblica e privata italiana discutere di una serie di argomenti più diciamo pratici, concreti e legati alla realtà del mercato italiano. Domani il programma continuerà con una prospettiva probabilmente un po' più alta e diversa fatta da persone che arrivano qua dagli Stati Uniti, da varie parti dell'Europa, dall'Iran e da altri interessanti luoghi con l'obiettivo di innescare delle conversazioni. Il motivo per cui la sala è costruita in un modo per cui non c'è veramente una differenza tra il palco e il pubblico, soprattutto voi qua davanti siete illuminati tanto quanto noi, è perché vogliamo che questa sia una conversazione, vogliamo che si inneschino delle idee nuove. Ci piacerebbe che ognuno di voi tornasse a casa con magari un'idea nuova e magari 4-5 dubbi in più che sono utili semi per nuove idee. Per cui di nuovo benvenuti a State of the Net e sentitevi pure tutti i protagonisti. Io vorrei ringraziare tutti i membri del comitato promotore, le persone che ci aiutano a pensare a State of the Net. Pensare insieme a loro ogni anno, questa conferenza, questo evento, è una delle cose più belle che ci capita a noi tre, il momento forse più creativo dell'anno, esplorare tutte le possibilità. Fatemi citare, e non voglio dimenticarne nessuno, Ioan Sempo, Luca De Biasa, Gigi Tagliapietra che è già arrivato, Adriana Lucas, Marco Massarotto, Antonella Napolitano, Daniele Chieffi, Maffede Baggis, Massimo Russo, Dave Snowden, Simone Puksic, Barbara Sgarzi e Ton Zilstra. Alcuni di loro sono già qui, alcuni ci raggiungeranno nel corso del pomeriggio, molti li troverete su questo palco, in particolare domani. Qualcuno ci segue in streaming da casa, probabilmente in questo momento. Vi ricordo, vi dico che siamo in streaming sia questo pomeriggio che domani tutto il giorno su Facebook. Saluto, non vedo la luce rossa, chi è collegato da casa attraverso Facebook, siamo in streaming sulla nostra pagina Facebook. Lì invito, invito tutti quanti voi a partecipare non solo qui in sala, ma anche in rete, su Twitter, utilizzando l'hashtag della conferenza che è Cancelletto Sotten, l'iniziale lista di Tovenet 18. Vi ricordo anche che questa edizione della conferenza, così come tutte le edizioni passate, la troverete alla fine della conferenza anche su YouTube. Tutti i contenuti, tutti i momenti, il speech, tutte le conversazioni che sono venute su questo divano, le trovate nel nostro canale YouTube che oggi ha qualcosa tipo 200 video. Abbiamo maturato 690.000 minuti di streaming per più di quasi 100.000 persone diverse. È come se tutti gli abitanti di Udine, per dire una città da rifiuti Venezia Giulia, avessero guardato per 460 giorni contemporaneamente State of Venice. Quindi anche questa edizione andrà online. Partecipate, se trovate i tavoli liberi qui davanti, i tavoli sono assolutamente aperti, non sono riservati, non c'è servizio al tavolo, mi dispiace, però siete invitati a partecipare. Però il caffè dopo è offerto da uno dei nostri partner. Bisogna alzarsi e andare a assaggiare il caffè offerto ovviamente a Trieste da Illy. Quest'anno abbiamo, Paolo diceva prima che l'obiettivo è che ognuno torni a casa con un'idea. In realtà a State of the Net nel corso degli anni sono nati aziende, sono nate collaborazioni professionali, matrimoni mi hanno detto, perché anche in quest'epoca così digitale e così connessa, sempre di più vediamo in tutto il mondo che le conferenze servono, servono per guardarsi in faccia, non in antitesi al lavoro che ogni giorno svolgiamo online, perché saremmo ingenui a creare un'antitesi tra questi due modi di vivere, ma le conferenze servono e portarle in una città come Trieste, in Friuli Venezia Giulia, penso sia una bella cosa anche per la città stessa. Quest'anno abbiamo avuto un quarto moschettiere, ci ha dato una mano enorme e sono molto contento di invitarlo ora sul palco. In un certo senso ci ha anche completato, questo sembrerà un ragionamento localistico, campanilistico del Friuli Venezia Giulia, ma il Friuli Venezia Giulia ha quattro province, Trieste ovviamente, io da triestino non potrei che citarla per prima, capoluogo, Gorizia, la zona da cui viene Paolo, Pordenone da cui viene Sergio. Ci mancava Udine, era una mancanza importante e per fortuna Simone Fucsic ci ha raggiunto e grazie al suo ruolo di presidente di Insiel, la società in house della regione, ci ha fatto il regalo di voler lavorare con noi. Questa mattina in questa stessa sala abbiamo ospitato il company meeting di Insiel che come ogni company meeting è pieno di idee, conflitti, tante tante delle persone che sono qua lavorano in grandi aziende quindi lo sanno come funziona. Adesso lasciamo a te Simone il palco perché ci devi spiegare il senso di questo pomeriggio. Grazie e buona state of the net a tutti. Grazie. 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 Grazie.